Ciao a tutti, sono Marco Micheletti, sarò presente anch'io alla serata che si svolgerà l'11 di marzo presso l'Arena del Folk, quindi Tempio del Liscio Romagnolo, del Folcrore, una bellissima serata dedicata al Sassofono e al Carinetto, con l'orchestra di Mirko Gramellini e tantissimi altri artisti che si alterneranno sul palco per agli etardi. Non mancate, mi raccomando, ciao a tutti!